È capitato spesso in passato che grandi scoperte avvenissero per caso, e allora è lecito chiedersi quanto conta la fortuna nella ricerca scientifica. Molti di noi, nei cassetti, ci vorrebbero tenere i sogni, e il re Becquerel ci teneva i sali di uranio, e così, per caso, scoprì la radioattività. Nell'inverno del 1896, l'ingegnoso fisico francese stava studiando la fosforescenza, e in particolare le proprietà dei sali di uranio. Per questo, aveva ideato un esperimento nel quale, sopra una lastra fotografica, avvolta in carta scura, poneva un sacchetto di sali di uranio e metteva il tutto sotto al sole. Sviluppando la lastra, Becquerel si rese conto che i sali di uranio erano riusciti in qualche modo a impressionarla. Pensò dunque che l'uranio fosse in grado di assorbire l'energia solare e di restituirla in qualche modo alla lastra. Aveva osservato un fenomeno molto importante, ma non lo aveva ancora compreso. Ad aiutare il nostro protagonista, come nelle migliori storie, fu il cielo. Le nuvole, infatti, coprirono il sole per molti giorni, e il metodico Becquerel fu costretto a mettere tutto il necessaire per i suoi esperimenti dentro un cassetto. Con il ritorno del sole si riaccese la sua curiosità, ma quando andò ad aprire il cassetto ebbe la geniale intuizione di provare a sviluppare la lastra, che era stata diligentemente avvolta in carta scura, anche se non era stata esposta al sole. Si rese così conto che i sali di uranio avevano comunque impressionato la lastra, e dunque che si trovava di fronte a proprietà della materia sino ad allora sconosciute. Nasceva così, per caso, in un cassetto, uno degli ambiti di ricerca più affascinanti, importanti e utili e allo stesso tempo pericolosi degli ultimi due secoli, la radioattività. Si chiama serendipità, la capacità, nelle ricerche scientifiche, di rilevare e interpretare correttamente un fenomeno occorso, in modo del tutto casuale. E la storia della scienza è piena di esempi simili, basti pensare alla penicillina, ai raggi X, alla nitroglicerina, e dunque per questo si riflette sul valore della fortuna, anche in un processo conoscitivo che dovrebbe essere fondato su regole e metodi ben precisi. Certo, la fortuna aiuta sempre, ma come ci ricorda il saggio Virgilio, aiuta gli audaci. Questo perché, tra l'osservazione di un fenomeno, che si è sviluppato in modo più o meno casuale, e la strutturazione di una scoperta passa molto tempo e lavoro, e solo chi ha una solida preparazione, chi ha studiato a lungo, è in grado di far tesoro anche della fortuna. Pensiamo infatti a quante volte saranno stati osservati dei fenomeni importantissimi, ma non è stata tratta alcuna scoperta, perché chi ha avuto la fortuna e l'opportunità di farlo, non è stato in grado di chiudere il processo conoscitivo. Allora, più che concentrarci sulla fortuna, sarebbe il caso di riflettere su che cosa renda davvero audaci nel mondo della scienza. Le ragioni sono tante, comprensibilmente, ma c'è un ingrediente che è molto importante, e si tratta della curiosità. La curiosità nasce dal fascino della scoperta, dalla passione per il conoscere, dalla socratica consapevolezza di non sapere. Scienziati, inventori, esploratori e pionieri che sono stati baciati dalla serendipità erano tutti animati da una profonda e sincera curiosità. E allora uno dei compiti della scuola oggi, dell'istruzione anche per quanto riguarda le materie scientifiche, è stimolare quanto più possibile la curiosità, ponendo l'accento su ciò che ancora non sappiamo, sul fatto che abbiamo solo iniziato un percorso che riserva ancora molte sorprese, molte scoperte. Mostrare alle nuove generazioni i limiti e i difetti di un sapere che loro potranno migliorare, i confini di un regno che loro dovranno ampliare. Far nascere la curiosità attraverso la consapevolezza che col duro lavoro potranno essere protagonisti del loro tempo. In questo modo favoriremo certamente qualche futuro colpo di fortuna. Grazie a tutti.